È stato e sarà ricordato soprattutto come il prefetto di questi due anni infiniti legati all'emergenza coronavirus, di cui ha realmente seguito passo passo ogni effetto, ogni declinazione in ambito sanitario, ma anche economico e sociale. È stato il prefetto dell'ascolto, dell'apertura a ogni questione legata al territorio sul quale ha esercitato la propria funzione di massimo rappresentante dello Stato, ultimamente anche con una decisa presa di posizione di fronte alla situazione della nostra sanità al collasso per la carenza di personale medico-infermieristico. Salvatore Rosario Pasquariello, prefetto di Sondrio dal 25 novembre 2019, poco più di due anni, sarà il nuovo prefetto di Varese, dove succederà a Dario Caputo e dove di fatto ritorna, poiché qui era già stato come viceprefetto vicario. Nato nel 1962 a Potenza, laureato in giurisprudenza a Napoli, Pasquariello è stato anche nel Verbano Cusiossola, come capo di gabinetto e dirigente di varie aree, oltre che viceprefetto vicario. Sebbene non vi sia ancora la data di ingresso del successore di Pasquariello, si sa che a Sondrio è in arrivo l'attuale viceprefetto vicario di Bergamo, Roberto Bolognesi. Nato a Carpi in provincia di Modena il 7 maggio 1966, Bolognesi è laureato in giurisprudenza con specializzazione in scienze della pubblica amministrazione.